per la seconda settimana defila per il secondo weekend defila perché sto già parlando portoghese mi sto già abituando alla nuova guida o spagnolo per l'attacco chi lo sa o spagnolo per l'attacco sì è comunque la penisola è quella lì comunque sempre la penisola iberica benvenuti a questa nuova puntata questo nuovo episodio di a gamba tesa dicevo per la seconda per il secondo fine settimana di fila con giacomo mirandola ciao jack ciao davide ciao a tutti e oggi mi sa già che partiamo già in disaccordo io e te sul vediamo sull'idea di base probabilmente su qualcosina sì su qualcosina settimana scorsa siamo in forte disaccordo magari troviamo un punto di contatto qualcosa meno qualcosa meno però rispetto a settimana scorsa cambiamo drasticamente zona di campo esatto perché parliamo della difesa però prima di entrare nel dettaglio dell'argomento che affronteremo oggi dell'argomento su quale ci sfideremo tra virgolette oggi mettere like commentare iscrivervi attivare la campanella insomma darci quel feedback che tanto ci fa piacere quanto ci fa capire effettivamente se i format continuano a piacervi e se l'apporto del lavoro che che facciamo che vi portiamo è effettivamente a voi nostro pubblico sempre fidelis gradito si parla di difesa si parla di difesa si parla di difesa partendo dalle parole Morgan metti pure la prima grafica partendo dalle parole di Paolo Fonseca che si è soffermato a lungo sulla sulla difesa in tutti i suoi aspetti quindi sui miglioramenti da portare rispetto allo scorso anno lui è proprio dichiarato di aver visto di aver studiato la squadra ma le leggiamo? e di voler migliorare l'equilibrio si sto facendo un po' un riassunto eh io le leggerei perché poi andiamo proprio più testuali allora ho studiato la squadra una delle cose da migliorare per vincere l'equilibrio questa questione difensiva l'ho approfondita e dobbiamo migliorare posso dire che vogliamo costruire una squadra più aggressiva voglio difendere in modo più alto con il baricentro lavorerò per migliorare questo aspetto abbiamo dei buoni difensori non penso che sia un problema individuale ma dobbiamo migliorare collettivamente e qui sono completamente d'accordo con Paolo Fonseca quando dice che il problema della difesa del Milan nello scorso anno non è stato un problema di singoli ma è stato un problema chiaramente sono d'accordo io trovo peraltro interessante anche che lui torni su questo tema sia quando gli fanno una domanda sulla fase difensiva più nello specifico in cui più o meno ripete le stesse cose ma anche quando gli chiedono del centrocampo esatto io leggerei anche queste perché poi le considerazioni ovviamente tra la difesa e la parte che di centrocampo dovrebbe essere più adibita a compiti difensivi vanno di partire esatto esatto lui sul centrocampo che cosa ha detto ha detto voglio dire che ho un modo di difendere diverso da quello che si faceva prima io so che qui in italia c'è la tendenza a fare uomo a uomo noi in alcuni momenti possiamo farlo ma non su tutto il campo questo cambierà gli approcci del mediano per esempio ed è molto connesso alla fase difensiva in generale che è un po penso il grande cambiamento che vedremo rispetto alla scorsa stagione del mediano magari ne abbiamo parlato potrebbe essere Yusuf Ofanà sembra in questo momento Yusuf Ofanà che ha delle caratteristiche molto più difensive e molto più di interdizione rispetto agli attuali centrocampisti in rosa però io mi concentrerei sul pacchetto difensivo perché perché si parla di Strainia Pavlovic difensore centrale serbo mancino classe 2001 al Salisburgo che arriverebbe a Milano per 20 milioni di euro e che verrebbe a fare l'unico di fatto centrale di piede mancino in rosa questo secondo te lo lancia già nella squadra di titolari il fatto di essere l'unico con quella caratteristica lì? Allora però c'è un altro aspetto che secondo me va considerato prima ancora di Vlaovic qui chiedo a Morgan di mettere la grafica numero 2 ed è quella sulle effettive reali necessità tattiche nella retroguardia di Paolo Fonseca perché nella foto che vedete in grafica ci sono due personaggi il buon Pierre Calulu e il buon Emerson Royale ricordiamo Emerson Royale sembrava alla fine che potesse essere il primo acquisto di questa campagna estiva del Milan ma ora il tutto sembra essersi un pochino raffreddato e c'è anche Calulu ma perché c'è Calulu? Perché la domanda che si è posto e cui ha anche risposto Paolo Fonseca è ma Pierre Calulu è un difensore centrale o è un terzino? E quindi io poi tenderei ancora a ribaltarla ovvero il Milan ha davvero bisogno di un terzino destro e di un difensore centrale oppure può limitarsi a comprare magari un solo difensore centrale inserendo magari Simic nel gruppo dei centrali e considerando Calulu un terzino destro oppure ha più senso mantenere Calulu nel gruppo dei centrali acquistare un terzino destro e a quel punto la mia domanda è ma serve davvero un difensore centrale? Fonseca è stato molto chiaro su Calulu può giocare in due posizioni sono soddisfatti di aver tutti qui vabbè è importante cominciare parto dalla fase difensiva è positivo avere Calulu con diversi ruoli sappiamo che non è un giocatore molto offensivo ma poi dipenderà da dove giocheremo magari a destra possiamo giocare a volte con un terzino bloccato altre con un terzino più avanzato vedremo lui ha nominato tante volte la parola struttura di partita in partita ora a me sembra che queste parole di Paolo Fonseca siano state prese come un dogma ovvero il Milan giocherà col terzino destro bloccato non è così non è così io ho visto già su tanti quotidiani ma già tanti anche addetti ai lavori è prendere questa cosa per prese fatta non è così Fonseca l'ha detto chiaramente in base alla partita vedremo c'è la possibilità che il Milan giochi con questo terzino bloccato ora in questo caso Pier Calulu secondo me potrebbe essere una buona soluzione perché Calulu potrebbe essere una buona soluzione tenere in rosa un calciatore che può farti due ruoli è sempre una buona soluzione Calulu non ha quella progressione offensiva che ha chiaramente Ternandez che è il migliore del suo ruolo quindi è anche inutile paragonarli però io un terzino destro andrei a prenderlo comunque perché Calabria è comunque un giocatore che può rimanere nella rosa visto che alle partite quest'anno tra l'altro aumenteranno però serve il terzino di spinta perché Fonseca ha fatto capire che vuole il terzino di spinta oltre al terzino bloccato un terzino di spinta serve ora Royale è il nome giusto il nome sbagliato in tanti sono scettici io anche in parte però non considererei l'esperienza al Tottenham andrei a prendere quello che ha fatto con il Betis Sivilli in Liga campionato leggermente più facile però ha fatto delle buone cose ora 10 milioni è un conto a 20 è un altro cosa fai con Pier? io per quanto mi riguarda secondo me il Milan non ha necessità di intervenire sul mercato in entrambi i reparti nella mia testa Pier Calulu andrebbe considerato un terzino destro a tutti gli effetti potrebbe essere per me il titolare il titolare nel ruolo di terzino destro per giocare in fase di possesso palla quasi quasi adesso non malinterpretate le mie parole con una specie di difesa a tre con un Calulu che mi gioca quasi da braccetto in fase di non possesso e permette a Teo Hernandez di scorribandare sulla sinistra e questo porterebbe ovviamente però alla necessità di andare a inserire un difensore centrale nuovo un difensore centrale di livello e qui chiamo Morgan la terza grafica e un difensore centrale si parlava di Pavlovich ma un difensore centrale mancino perché è fondamentale questa caratteristica se si viene da Romagnoli che non c'è un difensore mancino esatto cioè nella tua ipotesi nella tua ipotesi secondo me questa caratteristica di avere il difensore centrale è fondamentale cioè l'avere un difensore centrale in piede mancino ti permette di fare determinate cose anche in fase di copertura ti permette magari sul lato sinistro di lasciare qualche compito difensivo in meno a Hernandez in determinate situazioni di gioco perché comunque è un giocatore un pochino più confident è un pochino più a suo agio per me Pavlovich è un acquisto approvato e non sono d'accordo con te io prendo sia il difensore centrale che il terzino siamo andati parecchio in difficoltà con la questione infortuni l'anno scorso ora io non dico che e spero ovviamente che non ricapiti ma in una stagione può succedere di tutto le partite sono tante i Champions League ce ne sono due in più eventualmente anche lo spareggio che abbiamo fatto poi di Europa League anche l'anno scorso c'è il rischio di fare tante partite di sovraccaricare poi i calciatori che hanno dimostrato che oltre al dramma infortuni al Milan non sono così non sono così duraturi a livello di prestazione nel continuo della stagione cioè ciao Tomori ciao Tomori è lo stesso Calulu io prendo sia il difensore centrale che il terzino anche perché andresti a costruire un pacchetto con tante alternative ma veramente tante alternative perché i giocatori doppioni di giocatori doppioni sì ce ne sono perché possiamo ciao e gabbia con le stesse caratteristiche simili per certi versi Tomori e Calulu più o meno con le stesse caratteristiche qui sono un pochino meno d'accordo però sì diciamo che hanno entrambi nella velocità una loro arma e poi abbiamo un difensore centrale mancino che non ha caratteristiche simili con gli altri abbiamo dei terzini che sono due terzini diversi ok resta al punto del terzino sinistro il terzino sinistro è Alex Gimenez Alex Gimenez stesse più o meno caratteristiche di Teo Hernandez spinta totale stesse caratteristiche mi permetto di aggiungere sapete che io apprezzo eseguo molto il calcio giovanile stesse caratteristiche del primo Teo Hernandez quello che faticava molto a difendere e aveva sporadici colpi di testa adesso stiamo parlando di un difensore certo certo comunque al di fuori di questo mi permetto prima ti rispondo su Pavlovich e dico anche la mia su Pavlovich poi ti vado a spiegare perché secondo me non è così necessario andare sul mercato a intervenire in entrambi questi ruoli dimmi però chi prenderesti cioè punti sul centrale mancino o punti sul terzino io punto sul centrale mancino però vado a bloccare Pier Calulu come terzino destro questa per me è l'idea quindi un terzino destro Pier Calulu Davide Calabria e nella mia testa e nei miei sogni Alessandro Florenzi anche Alessandro Florenzi rimane anche soprattutto come uomo e come collante di spogliatoio perché per me in una sola estate andare a perdere tre leader come Simon Kier Olivier Giroud e Alessandro Florenzi è veramente una bella batosta capisci anche che diventerebbero troppi cioè parleremmo di Calulu che è un terzino a metà Calabria che è un terzino destro l'ipotetico Emerson Real che è un terzino destro Florenzi che è un terzino destro no no ma infatti io non lo comprerei il terzino destro per quanto mi riguarda e ti spiego perché ti spiego perché chiamando a Morgan la grafica numero 4 perché io inserirei stabilmente nel pacchetto dei difensori centrali della prima squadra Giancarlo Simic perché per quanto mi riguarda si parla tanto di Camarda ma il giocatore in assoluto pronto per me non il più pronto lui è uno proprio pronto per giocare con la prima squadra e per quanto mi riguarda lo ha dimostrato negli spezzoni all'unico è l'unico che lo ha dimostrato negli spezzoni per me anche Jimenez comunque negli spezzoni che ha fatto vedere lo scorso anno è pronto per la prima squadra secondo me è pronto sia per essere una riserva della prima squadra ma anche per avere le sue occasioni da titolare perché alla fine con il Monza ricordiamolo lui non gioca titolare lui entra per l'infortunio di Tommaso Pobega ah di Tommaso Pobega di Tommaso Pobega in quella difesa a tre improbabile improvvisato braccetto Tommaso Pobega si fa male poverino peraltro l'infortunio più grave di tutta la stagione del Milan che è stata piena di infortuni ma mai così gravi se ci ripensi è stata una situazione abbastanza lucina è stata una partita incredibile è stata una situazione abbastanza lucina entra Giancarlo Simic io ero presente allo stadio quindi ve lo posso dire il discorso legato al gol che è una soddisfazione immensa però è episodico e su questo penso che potremmo essere tutti abbastanza d'accordo ma è tanto per la sicurezza che gli ho visto mettere in campo ciò che mi stupisce di quel ragazzo non è tanto le sue qualità che sono sotto gli occhi di tutti e che probabilmente non sono sono tra le migliori del gruppo chiamiamolo Primavera che adesso è il gruppo Milan Futuro ma mentalmente senza dubbio il più pronto si tratta di un ragazzo molto disposto a sacrificio e vi era uscito anche un'interessante intervista sui canali ufficiali molto bella l'ha recuperato iscrivete simile sul sito di Radio Rossonera assolutamente sì dove lui addirittura diceva che dopo essersi presentato dopo essere arrivato in Italia preso dal Milan al primo allenamento c'è stata questa lunga riunione tattica in sala video lui non ha capito perché non conosceva la lingua e questa cosa di non aver capito bene quello che l'allenatore Abate gli stava cercando di spiegare lo ha fatto talmente innervosire che si è messo lì ha sfruttato tutto il suo tempo libero e in qualcosa come un mese parla l'italiano meglio di Leonardo Menini ha imparato una lingua difficile come l'italiano in un mese però 2005 sì 40 partiti Serie C 2005 Giancarlo Simic perno perno insieme magari a un centrale con un pochino più di esperienza magari da andare a pescare sul mercato ok 40 partiti Serie C e il progetto deve essere questo quest'anno fai 40 in Serie C e l'anno prossimo vieni ma non come quest'anno vieni e ti giochi le carte se io devo entrare nella logica che Ibrahimovic ha spiegato tante volte ovvero quella che quando il Milan è saldi dal Milan futuro ci sarà questo scambio e questa stessa lunghezza d'onda a livello di veduta a livello di proprio gruppo squadra io non so cioè secondo me è sprecato tenerlo lì io voglio farli far 40 partiti se potrebbe essere beh tu considera che alla fine con il numero così elevato di partite che ci sono alla fine Simic è un altro per cui secondo me secondo me non ha le caratteristiche chiamiamole così della coppia Tomorica Lulù ma non ha neanche le caratteristiche della coppia ciao Gabbia no non capisco benissimo perché è così secondo me lui inserito in un contesto assieme a Pavlovich con ciao Tomori e Matteo Gabbia nella speranza ma nella convinzione dal mio punto di vista che Matteo Gabbia si riconfermi sui livelli del girone di ritorno dello scorso anno per me il reparto è perfetto e a quel punto si può basare su Teo Hernandez sulla sinistra con Jimenez come prima riserva e su Pier Calullo sulla destra con Calabria e idealmente nella mia testa anche Florenzi noi ovviamente nel discorso non abbiamo considerato le eventuali cessioni sappiamo che c'è l'interesse di Newcastle soprattutto su ciao ma anche su Tomori prima di chiudere costruiscimi al volo il tuo reparto perché quindi i due terzini sinistri gli X terzini destri e i centrali vediamo se il mio è il tuo uguale certo allora molto semplicemente per quanto mi riguarda Calullo terzino destro titolare ah tu parti addirittura si Calullo terzino destro titolare Alessandro Florenzi questo è uno statement molto forte Alessandro Florenzi e Davide Calabria che si giocano a darmi pari il posto come primo rincalzo dando per scontato che con il numero di partite bisognerà spesso turnare i titolari centrali difensori centrali attualmente Matteo Gabbia e Ficaio Tomori i titolari con Malik Chao prima riserva Pavlovich che parte da riserva con l'idea di diventare un titolare con i dovuti tempi di ambientamento a campionato compagni in realtà nuova e Giancarlo Simic pronto a subentrare per qualsiasi evenienza Teo Hernandez sulla sinistra con Jimenez prima riserva e anche con il Jolly Bartesaghi che secondo me sarà più sulla serie C ma anche Bartesaghi magari in qualche circostanza in qualche primo turno di Coppa Italia può avere qualche chance fanno più comode 40 partite di C a Bartesaghi che a Simic io prendo Teo e Alex a sinistra il reparto dei centrali a differenza tua non considero Simic ma considero Kalulu e vado a prendermi anche un terzino destro in questo caso però ipotizzando una cessione di Alessandro Florenzi quindi a destra tengo Emerson che è probabile Emerson Royal asterisco perché non si sa se lui che arriverà o altri comunque con quelle caratteristiche lì ovvero spinta punto Davide Calabria eventualmente Pier Kalulu e nei reparti centrali i cinque centrali sono Matteo Gabbia Fichto Mori Malik Chao Pavlovich e il quinto è Kalulu che fa la spola per me io considererei anche questo qui però fateci sapere cosa ne pensate voi soprattutto nei commenti perché per noi è arrivato il tempo di chiudere il vostro pacchetto difensivo se vi piace insomma la possibilità che arrivi Pavlovich se non vi piace come probabilmente sarà così la possibilità che arrivi Emerson Royal sulla destra come organizzereste voi il reparto fatecelo sapere scrivetelo e anche qualche nome chi prendereste visto che Emerson Royal non scalda voi chi scalderebbe sulla destra cosa fare con Simic le rotazioni prima squadra come dice Jack oppure come dico io 40 partiti serie C che però devono essere 40 e qui mi impunto grazie Jack grazie Davide grazie a tutti ciao e grazie anche da parte mia per seguire uno dei migliori format di Radio Rosso Nera come dico sempre buon weekend a tutti ci sentiamo qui sempre sulle nostre frequenze e mi raccomando like iscrizione commento ciao